francesco renga bentornato al festival di sanremo direi grazie mille come stai come state voi guarda noi tutto bene tu come stai credo che la stai vivendo davvero bene io sul palco ho visto una serenità incredibile davvero disarmante sì sto bene sto bene sono molto felice perché nonostante questo sanremo così strano io credo ancora proprio nello spirito anche nel valore simbolico di questa manifestazione soprattutto in questo momento quindi nella mia idea più felice sarebbe dovuto essere il sanremo della ripartenza mi sembra di capire che non lo sarà però però almeno abbiamo acceso i motori almeno la macchina l'abbiamo fatta ripartire ho rivisto su quel palcoscenico molti amici a partire che ne so da pippo il direttore di palco storico della rai di sanremo che mi accompagna da 30 anni su quel palcoscenico ricominciare a lavorare insieme ai ai lucisti agli scenografi ai musicisti all'orchestra gli orchestrali ai backliners tutto un mondo che comunque è rimasto fermo per troppo tempo quindi al di là di noi sul palcoscenico al di là di me che fare salire su un palco finalmente tornare a cantare anche senza un pubblico lì presente è stata veramente un'emozione molto molto grande e mi rende molto felice io sono andato a rivedermi il video della primissima esibizione di 30 anni fa sai che ho rivisto nel tuo sguardo di allora la stessa fame la stessa fame di oggi la stessa fame di musica lo sai perché quella non è cambiata a parte le rughe l'età e tutto il resto l'unica cosa che non è cambiata è proprio quella fame quella voglia di comunicare quella voglia di esserci quell'urgenza proprio espressiva di cui parlo sempre e questa è una canzone molto importante per me perché pur essendo una canzone nella mia idea la vedo come una canzone comunque che può dividere no perché qualcuno da me si aspettava qualche cosa di più classico ognuno si aspetta qualcosa invece questo secondo me è proprio la giusta fusione tra tutto quello che sono stato da quel momento lì in cui che tu e adesso hai fotografato di 30 anni fa ad ora in questa canzone c'è tutto quel percorso artistico e in più aggiungo la difficoltà vera di questa canzone al di là insomma dell'estensione che sono quasi due ottave e mezza di registro diciamo nella canzone che vengono tutte quante sfruttate la cosa difficile è rendere questa fusione qualche cosa di fluido quindi è che arrivi come qualche cosa di semplice e questo secondo me è quello che anche doveva arrivare ecco ed è arrivato ma io credo che comunque tu al festival di sanremo ti sempre portato dei dei pezzi a volte anche spiazzanti perché mi viene in mente il 2009 l'anno in cui arrivati davvero e proprio alieno senza un disco con un pezzo estremamente difficile tra l'altro difficilissimo e bellissimo sì 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 uomo senza età stai parlando di quello come senza età è stata una follia ero innamorato in quel periodo era il mio periodo della come dire lirico della lirica ero intrippato avevo conosciuto la povera la povera adessi e daniela una mia grande amica che purtroppo non c'è più adesso che poi ho invitato su quel scenico avevo conosciuto il figlio il figlio di del monaco giancarlo e mi ero intrippato con questa cosa qui era andato a fare ho aperto la stagione lirica al al teatro massimo di palermo insieme a daniela era un po riaccesi era un po riaccesa con la vena dentro di me molto speciale ma perché in quel momento ero sul mio studio andava in quella direzione perché stavo preparando avevo già in mente di fare quel disco che poi l'orchestra e voce lo aveva appena fatto non mi ricordo se l'avevo appena fatto o lo dovevo ancora fare l'hai fatto l'hai fatto dopo con la presentazione in spagna bravissima ecco sei tutto la mia memoria storica quindi era un periodo molto bello e quella canzone era venuta fuori così insieme col mio maestro di canto che ancora tuttora il mio vocal trainer che vocal trainer di tutto sanremo praticamente scoperto maurizio zappatini che dopo devo sentire infatti prima di andare a fare le prove con casa di lego e c'era stata è venuta fuori questa cosa bellissima la canzone molto difficile ma ti assicuro che per il mio tipo di vocalità questa è ancora più difficile questa è la più difficile che ho portato al festival proprio per i vari registri che comunque esattamente esattamente quella era una canzone studiata per la mia voce per la mia laringe per il mia la mia in tessitura mia questa invece usa dei registri che sono molto diversi che sono quelli che poi ho sfruttato e ho usato in questi in questi anni quel quattro cinque anni fa da da che ne so per darti una un paletto da il mio giorno più bello del mondo in poi ecco c'è stato anche quella quella che poi è la contemporaneità perché se guardi adesso quello che si scrive il modo di scrivere è quello lì assolutamente questa canzone lega tutte le cose quindi mi aspettavo tutto mi aspettavo che fosse divisiva per quanto riguarda le dette lavori mi aspettavo che che fosse anche la classifica è perfetta per esempio oggi raffa mia mi ha letto la classifica di ed è giusto che sia così perché la demoscopia ovviamente anche lì si è divisa tra quelli che avrebbero voluto angelo due la vendetta e quelli che hanno capito che invece questo è un è un passo in avanti no certo tu hai parlato di maurizio zapatini io ricordo anche l'omaggio che tu hai fatto a lui nel 2005 lo hai portato sul palco in quella serata anche in quel caso proprio l'idea della canzone quindi a vincere anche la canzone perché tanti stupirono cercando di stupire con un duetto invece tu hai portato il cuore come sempre io ho portato il cuore come sempre ho portato maurizio perché si meritava quella cosa perché quella canzone lì era nata è stata scritta con lui insieme con lui era nata insieme ed era nata così al pianoforte la voce con una voce mi ricordo sì che c'erano state anche lì delle chitte ma chi è questo vecchietto che arriva vecchietto che poi avrà avuto alla mia età anche se li portava male già allora sì ma io porto sempre il cuore io non ho un altro modo perché la per me la canzone la musica è soprattutto è solo questo è aprire il mio cuore agli altri non c'è un'altra un'altra maniera un altro modo ma comunque questa sera c'era la possibilità di vederti in un'altra veste ancora serata dedicata alle cover una grande cover e spiazzante il tipo di duetto che hai scelto l'ospite che avrai con te sì 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 spiazzante ma è una cosa che ho fortemente voluto perché l'ho l'ho seguita Elisa a casa di Lego l'ho vista in tutto il suo percorso X Factor e ho assolutamente intravisto un un talento veramente veramente molto molto brillante e tra l'altro un talento non così vabbè sai sei bravo un talento curato un talento che si sente che è stato costruito anche attraverso lo studio una purezza una luce molto 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 limpida e quando ho pensato a questa cover che è una canzone bellissima che volevo fare già in orchestra e voce ma poi non ero riuscito a inserire all'ultimo quindi mi era rimasta qua la prima cosa che ho detto ho chiamato Amadeus e io faccio questa io l'ho detto il giorno stesso in cui ho saputo che sarei andato a Sanremo che mi avrebbe invitato a Sanremo l'ho chiamato e ho detto io faccio questa va bene va bene va bene e la canzone quindi è stata e immediatamente dopo ho cominciato a pensare con chi avrei potuto farla io ho pensato a lei perché allora all'età di mia figlia è un talento assoluto io ho pensato se a 17 anni qualcuno mi avessi detto ma vieni mi sarei primo cagato addosso però poi sarei stato l'uomo più felice della terra e credo che sia così anche per lei e credo che i talenti quando sono così eclatanti abbiano diritto ad avere tutte le porte aperte soprattutto se sono così giovani perché è un momento questo per lei lei magari ancora non se ne rende conto ma è molto delicato quindi dare a lei come dire una visione anche diversa magari da quello che loro in tutto il suo entourage che già ha perché ovviamente già strutturato in un certo modo secondo me può essere anche per lei un punto di vista su quello che potrebbe essere il proseguo no della sua vita artistica e la canzone è stata arrangiata prodotta riarrangiata da con con dare con far basta quindi abbiamo nel rispetto della scrittura quindi assoluto come sai della melodia della dell'armonia del del pezzo e però è un un upgrade sicuramente sarà una sorpresa e quindi la sua voce così fresca così il suo canto così moderno così asciutto su quella canzone che quando la sentirai capirai come è cambiata nel senso di come è stata comunque realizzata sarà secondo me una una bella cosa una cosa sorprendente anche quello francesco io come sempre non posso che ringraziarti ti auguro un buon festival di sanremo sai il festival evoca sempre tanti ricordi grazie ciao